amici del portale del verde buongiorno ben ritrovati guardate dove mi trovo sono completamente circondato da piante madri di ulivo sono insieme a roberto di apice piante il dottor roberto è agronomo specializzato in riproduzione di piante giusto e oggi con roberto andiamo ad introdurre una bella bellissima playlist dedicata proprio agli ulivi perciò a roberto chiedo cosa possiamo dire a chi ci sta ascoltando sull'olivo l'olivo è una pianta che si trova dappertutto qui in abruzzo e la pianta magica per eccellenza da sempre fa parte del nostro paesaggio e perché ogni famiglia produce l'olio per la propria necessità e per la propria sussistenza quindi qui da noi in abruzzo ogni azienda ha un suo angolo un suo pezzo dedicato all'olivo perché la produzione dell'olio viene vista come qualcosa che atavicamente dava la sopravvivenza della famiglia ma continua ad essere una pianta che riunisce le famiglie nella raccolta nel momento della raccolta nel momento della molitura e quindi diciamo l'olio è quello fatto sempre quello fatto in casa perché il proprio olio è sempre migliore anche di quello del vicino quindi non è come l'erba del vicino che è più bello il proprio olio è più buono di quello del vicino qui ci troviamo in un campo speciale perché qui c'è una collezione varietale quindi ci sono circa 600 alberi sono catalogati per file in pratica e o per tratti di fila e da queste piante queste piante sono piante madri che significa piante madre sono piante da cui vengono prelevati dei rami che poi vediamo come vengono riprodotti per essere riprodotti quindi da queste piante nasceranno le piante che noi produciamo in azienda quindi si prendono quelle che vengono chiamate le marze le marze quindi vengono prelevate da questo campo siamo l'unica azienda in italia centrale ad avere questo campo perché questo campo è una collezione varietale preziosissima in quanto le piante che sono qui derivano da una pianta nonna campione quindi qui c'è proprio il pedigree quindi siamo qui all'interno di un campo dove c'è il pedigree varietale e questa diciamo collezione importantissima perché ci dà l'opportunità di certificare la produzione che facciamo in azienda delle nostre piante quindi qui noi possiamo verificare la produttività della pianta la dimensione delle drupe e anche la qualità dell'olio perché da questo campo anche noi produciamo un olio diviso per varietà quindi facciamo i famosi monovarietali perché l'olivo quello che sarà il futuro dell'olivicoltura è quello di non avere l'olio di oliva ma di avere l'olio d'oliva dalla varietà ed è il percorso che ha fatto la vite mentre prima si facevano i vini misti quindi nel vigneto c'erano tante viti che si mettevano insieme si faceva il vino rosso e il vino bianco oggi invece i vini sono tutti per varietà cioè c'è il chardonnay il moscato non so i vari vini nell'olio la stessa cosa cioè se noi andiamo a molire separatamente le varietà l'olio di frantolio è diverso dall'olio di riccino è diverso dall'olio di peranzana è diverso dall'olio del gentile di chieti per esempio varietà locale grognale varietà locale sono tante varietà locali questi oli possono essere dolci possono essere piccanti possono essere amari possono essere profumati con sentore di pomodoro possono avere il sentore invece di erba sulla quindi avere l'erbaceo sono sapori molto diversi come nei vini e abbiamo dei sapori diversi quindi basta abituarsi per poi fare che cosa infine infine avere la possibilità di utilizzare oli diversi per piatti diversi cioè l'olio che io uso sul risotto non è lo stesso olio che uso sulla bistecca l'olio che uso sulla bruschetta non è lo stesso olio che uso sul merruzzo che è un pesce molto diciamo molto con un sapore molto delicato quindi l'olio deve accompagnare esaltare il valore del mio piatto non lo deve prevaricare e questo si fa appunto utilizzando le diverse varietà e qui ci troviamo nel campo dove abbiamo tante varietà e quindi possiamo riprodurre queste varietà secondo le nostre esigenze quindi il futuro dell'olio non è solo la qualità ma il monovarietale cioè avere oli di una sola varietà per poterli abbinare ai nostri piatti bene allora roberto ha introdotto proprio ci ha portato in questo magico mondo è inutile che vi dico che in questo campo si respira anche un'aria diversa rispetto agli altri posti che ho visitato qui in questi giorni insieme insieme a lui perché qui veramente si capisce che vi è storia trasuda un po' questo si sente si sente quindi se questo video l'avete ritenuto utile per voi per gli altri mettete un bel pollice all'insù state con noi continuate a guardare questa bella playlist e al prossimo video ciao